L'Uni3 di Barletta ha chiuso il suo 32esimo anno accademico, un'occasione per rilanciare i temi del tempo libero e della socializzazione. Sentiamo. 32esimo anno di attività per l'Università delle Tre Età di Barletta, un'occasione per tirare le somme di un progetto, quello dell'Uni3, che vuole valorizzare e promuovere il tempo libero come tempo che libera, socializzante e rigenerante, momento di crescita umana e culturale, dove il tempo è vissuto come risorsa da investire, con un occhio alla valorizzazione del territorio, alla socializzazione e al piacere dell'incontro con l'altro e alla proporzione della cultura immersa nella realtà, nonché all'apertura al dialogo tra le generazioni. A condurre le attività nel corso dell'anno accademico 2021-2022, gli oltre 30 tradocenti ed esperti che hanno prestato gratuitamente la loro opera. Sul filo della tradizione continuiamo con questi 32 anni, che però non pesano affatto, devo dire. Questo filo è quello anche che ci ha permesso di continuare a tenerci in contatto e a sentirci anche in questi ultimi due anni, nei quali è stato impossibile portare avanti dei corsi strutturati, però quest'anno c'è stata un po' la ripresa, con qualche interruzione e guardiamo con ottimismo ormai al futuro perché contiamo anche sulla fedeltà che i nostri soci hanno verso questa associazione e perché condividiamo tutti, consiglio direttivo e soci, la convinzione che anche a una certa età il tempo vada impegnato in maniera utile, in maniera costruttiva, in maniera sana, non ci si deve abbandonare anche alla solitudine molto spesso.